italiani tutto il mondo stiamo provando una golf r32 con 10.000 cavalli lei è felice con questa macchina? purtroppo sì significa prima aveva una subaro con 12.000 la prossima macchina sarà Lamborghini Schnitt Gallardo a tutti i miei amici che conoscono a tutti i miei amici che sono io ero piaciuto se fosse una volta con noi perchè mi avessi 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 la mia auto comunque il rumore come la subaro non c'è la perché la subaro ha un pozzo questo sono sei cincin no quattro cilindri sei cilindri non arriverà mai prestazione della subaro comunque non può arrivare mai all'infuori ti metti quattro turbini che so io no ma la subaro io dirò la verità questa è anche una bella macchina però ci sono sempre differenze tu sai benissimo quanto costa il modello nuovo della subaro eh ma se io vorrei se io non mi piace questo ma se io non mi piace se io non mi piace se io non mi piace ma come prestazione la subaro è? untouchable qui si sente la turbina invece alla sua parte si sentiva la crisi davanti a noi una Ferrari non posso correre in curva, devo stare attento perché siccome gli ho fatto l'assetto e dietro tocca sulla carrozzeria normale? e quindi devono mettermi sulle molle delle dei dischetti distanze? no, dei dischetti che li mettono sulle molle per non farli come si dice? rolle o sconcio si si lo so quello che hai detto e perché non ci pensavano prima? perché non ci avete pensato prima? perché non la fanno alla prova prima di assegnare la macchina? ma sei sicuro è forte ma tocca molto? no, pena pena forse lo senti anche forse lo senti anche vedo la curva è stata qua si toglie le copie e qua dorme e ci vorrebbe quelle qua le dono spinta io da dietro ok devo mettere dei dischetti che quando fedano che la fede non è più grande le fede fanno le dischette le fede fanno le fede fanno le fede fanno le fede fanno devo pagare extra o lo devono fare le fede fanno scusi eh scusi ci vorrebbe anche se lui ci potrebbe permettersi eh no ma è raccazzato comunque a tutti italiani tutto il mondo la prossima macchina che si comprano sarà Lamborghini Gallardo 600p che cosa vuol dire? ha 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 vuol dire Geld spielt keine Rolle ahahahahahahah ahahahahahahah ahahahah ahahahah man muss halt schon die Wahrheit sagen ich mein ehm an alle hübschen Damen ahahahahahah an alle Damen auf diese Woll a tutte le Signorine Signori tuttel mondo vi presento Juan di Lovar un grandissimo scopatore i a tutti i bici er è da prendere ma credente si segni ora Bionta Bruni non facciamo niente accettiamo tutte le carte da credit. Adesso noi ci troviamo qui a Mülldorf, il nostro amico Puccinella. Comunque un anno tolla tia in questa macchina. Poi è arrivato la noia, attacchiamo a mezzo picci. Però è più confortevole anche da mezzo. Subaru è una macchina da rally. Sì, era da divertirsi, da corsa e basta. Qualsiasi buco che prendeva, qualsiasi scaffa che prendeva e la sentiva. Questa R32 ha anche una macchina di rally ma come comfort è una cosa proprio molto bene. Lì, adesso noi abbiamo una Mercedes Dua 30G Compressor. Per noi non è un problema, il clippo è anche un po' E' un po' di un po' di più. In tutto quanto hai bagato in tutto? Das heißt, wenn ich dir das Auto blauen würde, würdest du vom Versicherung das ganze Geld zurück bekommen? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi siamo a Rios. Grazie a tutti.